Il timore di vivere una terza ondata è forte in costiera amalfitana, perla della provincia di Salerno, che nei mesi scorsi ha pagato un prezzo altissimo in termini di contagi e così non appena il numero dei positivi è tornato a salire in alcuni comuni, si è scelta la linea della tolleranza zero, il caso di maggiori e minori, dove i rispettivi sindaci hanno firmato ordinanze restrittive, chiusi uffici comunali, chiese e cimitero di vieto di far visita ad amici e parenti e ripresa delle scuole in presenza rinviata a un tentativo. Di frenare i contagi che hanno superato i 200 casi in tutta la costiera, ma la didattica a distanza è stata confermata anche in altri comuni della provincia, come Nocera Superiore, Vibonati, Buccino e Palomonte. Nel frattempo la curva epidemiologica ha fatto registrare una levissima flessione, sono 196 nuovi positivi nel Salernitano, ma l'allerta resta altissima. Abbiamo avuto anche due casi affetti dalla Miss C, cioè praticamente sarebbe la malattia infiammatoria multisistemica. Purtroppo si presenta a distanza di 4-6 settimane dall'inizio del Covid, però fortunatamente questi bambini sono stati attentamente seguiti, curati e possiamo dire che sono tornati alle proprie abitazioni. Proprio i piccoli pazienti del Ruggi sono stati omaggiati dai bikers salernitani, che hanno voluto rendere meno dura la loro permanenza in corsia. Per i centri di accoglienza, per gli invisibili, per quelle persone che non chiedono, hanno bisogno, quindi aiutateci ad aiutare.